Con la stagione autunnale riapre il sipario del Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta. Domenica 27 novembre alle ore 18 prenderà il via la stagione teatrale 2022-2023 denominata Domenica Pomeriggio a Teatro 23esima edizione. L'organizzazione della stagione teatrale pomeridiana è a cura del Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Il palcoscenico sarà inaugurato con la rassegna invernale da Corinne Clary presente a Caltanissetta per la prima volta. Sarà infatti l'attrice francese insieme a Francesco Branchetti, Giorgia Battistoni e Mario Biondino a portare scena una commedia brillante dal titolo Il diario di Adamo ed Eva per la regia di Francesco Branchetti. Una narrazione in chiave eronica ma anche fiabesca di come sia nata l'attrazione fra l'uomo e la donna. Dopo l'esordio di domenica prossima il Teatro Oasi riaprirà domenica 11 dicembre quando sarà di scena il Teatro Stabile Nisseno con la commedia Ora però muori, amore mio.